È un giorno molto importante, abbiamo iniziato con una vittoria in 2023, dobbiamo continuare così e per me è la prima partita da titolare, grazie al mister che mi ha dato la fiducia per mettermi a giocare, però il lavoro non basta adesso, dobbiamo continuare, è la strada giusta. Il tuo ruolo è importante, hai dimostrato personalità, quanto pensi di essere cresciuto in quest'ultimo periodo? Ho cresciuto molto, mi hanno detto pure i compagni, pure il mister, però sono giovane, ho tanto da lavorare, ho tanto da imparare, però devo continuare così. Allora te lo chiedo, in cosa ti hanno aiutato di più i tuoi compagni e Giuseppe Mourinho in quest'ultimo periodo? Mi hanno, era un grande step di andare dalla primavera alla prima squadra, però mi hanno aiutato in come devo giocare, come devo imparare, come devo abituare a giocare con più grandi, mi hanno aiutato tanto mister, giocatori, però un po' più giocatori perché stanno in campo con me, però mister mi ha detto che devo fare tatticamente e questo io ho ascoltato e ho fatto meglio. Grazie a tutti.